Un patto importante per consolidare questo rapporto privilegiato tra l'Atelier del Cuneo, quindi il territorio cunese e quello ligure per quanto riguarda i discorsi turistici, che vantaggi potrà portare a tutti e due i territori? Abbiamo lavorato in questi anni, ringrazio l'Atelier di Cuneo per la fiducia, abbiamo lavorato come comprensorio in riviera, quindi 18 comuni dell'estremo ponente ligure, e abbiamo lavorato su una promozione del territorio in modo condiviso, sinergico, per mettere davvero in rete quelle che sono le informazioni, le conoscenze e soprattutto i territori. Abbiamo due territori che sono vicinissimi, legati da un'amicizia storica e per noi è importante riuscire a metterli in collegamento. Penso alla destagionalizzazione, penso ai flussi che arrivano da fuori, penso ai contatti che abbiamo noi con la Francia e con il Principato di Monaco, che possono essere utili per il Cuneo e viceversa. Quindi secondo me è qualcosa che avremmo probabilmente dovuto fare anni prima, ci arriviamo oggi con grandi sforzi, grandi sacrifici, però una grande fiducia di migliorare quelli che sono i nostri flussi turistici. Perfettissimo posto, secco.